dell'Aurentis arrogante presuntuoso incomprensibile perché dico arrogante presuntuoso incomprensibile perché davvero credo che oggi l'ha fatto davvero grosso Zilischi è un giocatore che non merita questo Zilischi a Napoli ha fatto 237 o 39 partite 44 8 47 assist in tot anni ha fatto tutto il tutto ricordo che la Juve il Napoli giocò con la Juve a Torino quando perseguì la partita 1 a 0 e chi mi possa ricordare ricordo un solo giocatore in campo che ha fatto una bella partita Zilischi poi tra l'altro anche sostituito a un tot di minuti dalla fine quindi per dire che cos'è Zilischi Zilischi è un giocatore che salto l'uomo inventa l'ultimo giocato ok ebbene della Morentis dice che avrebbe proposto quattro e mezzo all'anno per tre anni forse per quattro addirittura Zilischi potrebbe andare all'Inter a quattro milioni di euro che è meno Zilischi è rimasto a tre milioni di euro a Napoli però quando poi l'Aridal gliela voleva dare 20 all'anno per un totti anni l'avebbe riempito d'oro quindi è inutile che poi della Morentis dice probabilmente alcuni polacchi sono poco abituati al mare e sono abituati alla nebbia di certi posti risparmati queste pigliaccate, queste porcate, questi atteggiamenti che secondo me sono vergognosi perché poi Zilischi a Napoli ha dato tanto e che Zilischi possa andare all'Inter alla Juve non è un problema e della Morentis anche se si parla di un Inter il direttore d'arriva a parametro zero chiaramente quattro milioni di euro ovviamente gli avranno lasciato quei soldi perché altre altre cifre verranno dati dal procuratore di Zilischi messo in un concesso e i miei dubbi sono anche che della Morentis abbia potuto offrire quattro e mezzo, quei tre milioni di euro qualcuno mi dice dalle mie fonti che a quei quattro e mezzo non ci è mai arrivato non posso averne la certezza ma ci sono delle fonti sibilline che mi dicono che la cifra è molto meno corposa poi perché vi dico l'interesse della Morentis la Morentis se non sbaglio per gennaio ha già preso oggi di lì ma già l'avevo detto questa notizia per quattro milioni di euro forse ci metterà un gioco di mezzo non spende neanche i soldi che potrebbe essere Demo o qualcun altro mazzocchi della Salenana però vende Elmas a 25 dice che compre altre signori per dire Elmas l'ha venduto in un quarto d'ora adesso non so a chi l'ha venduto è seguita poco so che la cifra è sui 25 milioni di euro dice ma compre altri giocatori signori ma l'interesse di della Morentis si è comprare a certe cifre vendere ad altre questo fanno gli imprenditori però cara della Morentis chi a Napoli con te ha dato tanto e Zilinski l'ha fatto non merita questi comportamenti soltanto questo cioè pensa che le persone abbiano un minimo di dignità perché se tu tratti le persone semplicate come dei pacchi postali poi succede che a Napoli i giocatori non ci vengono più questo vorrei far riflettere perché ho fatto questo video perché tutte le volte anche i tifosi di Napoli hanno criticato me no non criticate me criticate il vostro presidente perché alcuni dopo anni che io parlavo l'hanno capito in una reattacca della Morentis tutti i presidenti che fanno un discorso di interesse personale l'imprenditore sì sì l'imprenditore ok ma a modo in un certo modo le persone si trattano da cristiani i procuratori sono un altro tipo di cosa ma in questo caso Zilinski si è potuta scelto a meno ma può scendere può scegliere a scadenze di contratto e a 30 anni dove andare cioè sono gli ultimi anni della sua carriera può decidere questo ragazzo dove voler andare a messa non concesso certe battute se le può risparmiare da Morentis perché io credo che Zilinski e lo sanno tutti i tifosi in Napoli ha dato davvero tanto a Napoli e ripeto l'anno scorso poteva andare in Arabia ha detto io rimango qua perché sto bene a Napoli e mi meraviglio anche che sia potuto andare via io ero convinto che potesse anche rinnovare se non ha rinnovato c'è qualcosa che non va e loro sono dei comportamenti poco piacevoli con fronte di questo ragazzo che ha fatto una scelta diversa mi dico la mia ipotesi la mia valutazione onestamente a cuore leggero su Zilinski l'artista esiste in Zilinski buona sera da tutti